Bella ragazzi, come arsi che bentornati al mio canale oggi signori, siamo tornati qui con un video molto speciale per il canale e appunto anche la parola in sé è lo speciale dei 10.000 iscritti, tantissimi iscritti a parere mio perché appunto non ho mai avuto dei canali con questi traguardi è la prima volta una cosa grandiosa e soprattutto per merito vostro perché appunto supportate il canale tutti i giorni e vi ringrazio infinitamente ho voluto fare questo piccolo montage per non buttare via delle vecchie clip che sono anche clip di ricordo alla fine perché l'ho tenute da season 2 fino appunto alla season numero 5 e dove c'era appunto il doppio pompa, sono clip solo di doppio pompa, non triggeratevi se non vi piace il doppio pompa ma spero che il video venga apprezzato per appunto il lavoro che c'è stato dietro ovviamente in caso raggiungessimo altri traguardi farò dei montage anche con altre armi per chi mi segue da tantissimo tempo anche grazie a questo video avrà capito che è la mia arma preferita appunto il pump, quello del nonno per l'estetica e per il suono, mi piace un casino come arma in questo gioco ultima cosa perché non voglio rovinare il video facendo un'intro lunga, trovate in descrizione il canale dell'editor ovvero colui che ha fatto questo montage in caso vogliate seguirlo appunto per il lavoro svolto vi invito ad aprire la descrizione e andate ad iscrivervi al suo canale non voglio dilucarmi troppo, non ho nient'altro da dire, grazie ancora e buona visione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ciao 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 ciao